Gentili telespettatori, buona giornata. E così Elena Dettaelli, Schlein, capo del Partito Democratico, dice così. Ma come? Continuano a succedere nei campi agricoli, tra i braccianti, continuano a succedere degli incidenti, ma il governo aveva detto, questo qualche mese fa, che l'Italia peggiore, quella del caporalato e dello sfruttamento, deve essere debellata. Io subito vi avevo detto, attenzione, oggi, questo qualche tempo fa, si parla di caporalato, l'Italia peggiore, le cose devono cambiare, queste condizioni di lavoro devono finire immediatamente, il governo aveva detto, l'Italia peggiore, quella dello sfruttamento, la elimineremo. Io vi avevo detto subito, attenzione, adesso ci sono i proclami, ma fra una settimana si parlerà di spiagge, di conchiglie, di mucillaggine, non se ne parlerà più. Si è parlato di caporalato per una settimana, perché c'era stato un fatto di cronaca, e poi la politica se n'è assolutamente disinteressata. La Schlein dice, ma la Presidente Meloni e il suo governo intendono occuparsene o continueranno a fare proclami di circostanza solo di fronte all'onda emotiva dei singoli drammatici episodi di cronaca? Bisogna dire una cosa importante dietro questo. l'agricoltura italiana, una parte dell'agricoltura italiana, per sopravvivere ai mercati internazionali, perché poi noi al supermercato ci troviamo la zucchina dell'Azerbaijan, ci troviamo il cetriolo che arriva dalla Scandinavia, ci troviamo il pomodoro per insalata che arriva dal Marocco. Ecco, quindi il punto è questo. Le aziende agricole italiane, per competere sui mercati internazionali, dove in giro per il mondo c'è sfruttamento, fanno lavorare persone di tutte le età, anche minori, paghe da fame, niente ferie, di tutto di più, affitti più bassi, tasse più basse, eccetera, eccetera, arriva la zucchina dell'Azerbaijan e l'italiano che produce le zucchine non può venderle nei supermercati perché arriva la zucchina fuori dai confini europei. E allora le aziende agricole, una parte, una parte bisogna dire, una parte consistente delle aziende agricole italiane, per sopravvivere al mercato internazionale, che cosa fa? Fa lavorare le persone senza contratto, dandogli un euro e mezzo l'ora, due euro l'ora se è tanto, in condizioni che abbiamo visto, il caporalato, lo sfruttamento. Se l'azienda agricola X dovesse prendere tutte quelle persone che utilizzano i campi attraverso il caporalato e dovesse assumerle con contratto nazionale, con tutte le tasse, le addizionali regionali, provinciali, condominali, del pianerottolo, eccetera, eccetera, quell'azienda fallirebbe in una settimana. Quindi una gran parte delle aziende agricole italiane non può far altro che utilizzare i caporali che prendono mano d'opera così, presa in strada, pagata niente, per far sì che la zucchina italiana finisca al supermercato e sostituisca la zucchina dell'Azerbaijan, giusto? Ok. Combatteremo il caporalato, il caporalato lo distruggiamo e non ci sarà più. Il punto è questo, se voi andate a fermare il caporalato fate fallire l'80%, il 50% delle aziende agricole italiane, perché il caporalato lo trovi. Insomma, io passavo, ero a Rimini, Viserbella di Rimini, prendo la strada che va su verso Ravenna, perché dovevo andare a vedere un parco divertimenti, non mi ricordo se era Fiabilandia, se era Mirabilandia, non mi ricordo. Faccio sta strada e passo dove ci sono dei campi, specie di risaie o non risaie, coltivano qualcosa, e sulla strada, a 30 metri all'interno dopo la strada, mentre io guidavo, c'erano dei braccianti, curvi che tiravano su delle cose, 15-20 braccianti. E mi sono chiesto, questi braccianti che ci sono qua, sono quelli con un contratto nazionale, ferie, malattia, permessi, e tutto quanto, o sono quei braccianti invece che portano i caporali, che prendono così? O magari sono dipendenti, o sono braccianti, sta di fatto che sono lì, li vede chiunque passa con la strada. Andiamo ai braccianti, quelli col caporalato, lavorano nei campi. Se tu oggi con tutte le tecnologie che abbiamo, i droni, i satelliti, per individuare i braccianti, ci metti pochissimo. Con i droni, con la polizia, individui i braccianti, le coordinate, arrivano lì le pattuglie, bloccano tutto, chi siete, documenti. Il caporalato lo estingui in un mese, è finito il caporalato in Italia. Quindi oggi il caporalato lo puoi fermare. È molto semplice, sono lì alla luce del sole che lavorano nei campi. Sorvoli i campi, vedi dove sono le persone ed è finito il caporalato, no? Giusto? Ma il caporalato ci sarà sempre. Sì, ma se tu con i droni li becchi tutti ogni giorno, è finito il caporalato. Poi, se lavorano sulla terra, tu sai di chi è quel terreno, no? Il catasto, il comune, di chi è quel terreno? Boh, non lo so. Quel terreno ci avrà un proprietario, nome e cognome, va la polizia dal signore, nome e cognome che ha il terreno, tu fai lavorare la gente così. No, no, cosa facciamo? Stanno lavorando così, in un terreno a caso? Ecco, il caporalato lo puoi far finire in una settimana. Il problema è che poi l'80% delle aziende agricole italiane chiudono. Quindi, se si interviene facendo finire il caporalato, finisce anche una gran parte dell'agricoltura italiana e quindi si fa finta di niente. Negli anni, nei decenni, tutti fanno finta di niente. Succede il caso di cronaca, ci si scandalizza, mamma mia, che cosa, che cosa ho sentito, che cosa ho visto. Dopo una settimana, finito. Arrivederci a tutti e grazie.